La mattina del giorno di Natale a Recanati, poca gente in giro, la città dorme. Ieri sera grandi ammucchiate a tavola di parenti e amici, la messa di mezzanotte, gli auguri, lo scambio dei regali se poi ci sono stati, ma con l'aria che tira dubitiamo molto che in linea generale si sia andati tanto più in là di semplici pensierini, se poi ci sono stati anche quelli. Dunque la tavola, il rifugio quasi obbligato per dimenticare temporaneamente la drammaticità della situazione, una breve parentesi godereccia ma poi subito con i piedi per terra, abbiamo l'acqua alla gola e l'anno che finisce è ancor peggio di come lo abbiamo cominciato. Intanto riflettiamo sul nostro futuro sempre più nero, domani non è più un altro giorno, è sempre lo stesso purtroppo.